Satana è entrato in Vaticano e questo le profezie lo hanno detto con estrema chiarezza. Padre Pio diceva nel 1960 a un giovanissimo Don Gabriele Amort, sai Gabriele, è Satana, nel 1960, quando regnava Giovanni XXIII, sai Gabriele, è Satana che si è introdotto nella Chiesa e presto verrà a governare una falsa Chiesa. Verrà a governare una falsa Chiesa. Ora, sono parole forti, verrà a governare una falsa Chiesa, tanto che Padre Amort dice che le sofferenze finali di Padre Pio degli ultimi dieci, dodici anni erano motivate dal dolore di vedere la Chiesa assegnata dal diavolo. Ecco, Padre Pio aveva saputo dal cielo che Satana entrava in Vaticano.